allora quello che vi dicevo sempre andiamo a palpare apri bene bene la zona della branca montante la sua diverge molto rispetto al vestibolare quindi questo mi guida anche per il discorso della tronculare essendo lui un giovane collega optiamo per la tronculare che io faccio per via indiretta forbicina altro punto singolo sullo scarico e vedete che con la tecnica magnetodinamica noi non abbiamo asportato osso l'abbiamo solo espanso creando lo spazio sufficiente a far uscire il nostro dente controlliamo ancora la linea di incisione